Risulta che i ragazzi si sono scazzottati, si sono sputati e hanno fatto atti di bullismo contro i minori. Scazzottate, bullismo, atti vandalici. Arriva da Casale Sul Sile questa volta la denuncia attraverso i gruppi social del paese di atti di prepotenza, addirittura di violenza, da parte di un gruppo di minorenni, in questo caso tra i 10 e i 15 anni, che frequenta il parco delle vecchie pioppe accanto al cimitero e a due passi dal centro. Due giorni fa hanno fatto anche a botte, tanto che sul posto sono intervenuti i carabinieri senza però trovare più nulla al loro arrivo. Non rispettano nessuno e purtroppo i genitori non riescono a bloccare la situazione. I ragazzini rispondono male, a volte gli dicono vai a quel paese o parolacci di qualsiasi tipo, ma il bullismo è frequente perché si vede soprattutto sui minori, si sputano anche addosso, gli rompono la bicicletta e sono sempre i soliti, sono una decina, 12, 13 persone. I carabinieri e i vigili non riescono a fare nulla perché bisogna trovarli sul fatto e quindi rimane sempre una situazione un po' precaria. Si spostano di zona in zona però il bullismo rimane. Giochi pericolosi, racconta questo residente con cui si rischia di farsi male sul serio. Ho visto dei ragazzini su quel gioco, la giosta, che si sono slogati la spalla, la spalla gli è andato dietro, un altro si è rotto in mezza faccia perché non rispettano le regole ovviamente. E non rispettano le regole, i più piccoli vengono allontanati e loro sono i padroni del parco. E poi i ripetuti danneggiamenti in particolare dei giochi dei più piccoli. Qui non hanno giocato i bambini di 3 o 4 anni, hanno giocato quelli che pesano sopra i 50 kg e ovviamente strattono a destra e a sinistra, il risultato è questo. Ma non è la prima volta, è già successo ancora. Pure l'acqua aperta, il parco la lasciano aperta o rompono il rubinetto. È l'ordine quasi della settimana, se non è giorno. Una situazione che il sindaco Stefania Golisciani conosce. Denunce al momento non ce ne sono, ma le forze dell'ordine, dice, sono state allertate. Noi abbiamo già da tempo, già con la presente amministrazione, un tavolo aperto con la polizia locale, con i carabinieri e con la scuola. Quindi noi ci muoviamo nel senso di continuare un'opera di sensibilizzazione all'interno delle scuole. Però ovviamente c'è anche la necessità di far capire a questi giovani ragazzi che una cosa è il divertimento, una cosa è poi andare invece a danneggiare quelle che sono delle strutture pubbliche. È necessario che a un certo punto si intervenga anche, non solo con la sensibilizzazione, ma anche con una ramanzina e fino poi a dover prendere, se le cose dovessero continuare così, anche delle misure più gravi. Spero di non dover arrivare a queste misure. Grazie a tutti.